Truffe, raggiri, furti e rapine sono tanti i pericoli dai quali gli anziani sono costretti a difendersi, soprattutto nel periodo estivo. Per il secondo anno consecutivo, l'ANAP, l'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato, ha promosso la campagna più sicura insieme, che ha fatto tappa oggi a Potenza. In collaborazione con il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, è stato stilato un vero e proprio vademecum, con preziosi consigli per gli anziani. L'obiettivo è quello di informare per prevenire, illustrando le varie modalità con le quali vengono attuate truffe e raggiri nei loro confronti, soprattutto se vivono soli, ed ogni luogo ha bisogno di diverse accortezze. Semplici regole suggerite dalle forze di polizia per evitare di finire nelle mani di malintenzionati, in casa, per strada, sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici o dopo aver ritirato la pensione. Tra le regole fondamentali, quella di rivolgersi immediatamente alle forze dell'ordine per segnalare atteggiamenti sospetti e per denunciare qualsiasi situazione di pericolo. All'incontro hanno partecipato il segretario nazionale dell'ANAP Fabio Menicacci, il vicepresidente nazionale di Confartigianato Rosa Gentile, il prefetto di Potenza Antonio D'Acunto, il vicequestore Carlo Pagano, il capitano dei Carabinieri Raffaele Cirillo e il capitano della Guardia di Finanza Salvatore Delia. Le conclusioni sono state affidate invece al viceministro all'interno Filippo Bubbico. Il fenomeno delle truffe agli anziani è purtroppo in costante ascese, sia nel 2013 che nel 2014 ha fatto segnare un incremento rispettivamente dell'8,6 e del 3,5% a livello nazionale.